Vendi quello che hai E dai tutto ai poveri Chi sceglie di venire con me Deve rinunciare a se stesso Prenda la sua croce E mi segua Ehi, dico a te Sapientone Scusa per chi sei? Avrei avuto il coraggio di dare via tutto Cosa fai con me? Il mio cliente dice di aver abbracciato una vita diversa E quale vita? Ero caritatevole solo perché ero stata educata a esserlo Quello che facevo era abituale o spontanea Chi ero? Da questo momento potresti essere spogliato di tutto Da ogni tuo diritto Battene! Fuori! Chi è quell'uomo che è capace di privarsi di ogni cosa E vivere come un agnello in mezzo ai lupi affamati? A presto! E fa un giorno in mezzo ai lupi affamati dove sono capace di tutto